La favola di Cenerentola torna al cinema. La duchessina Matilda Scotti Palfini. Buongiorno duchessina. Perché ho sempre il terrore che Andrea mi venga a casa con qualche contadinella. Ho capito che ho bisogno di te. Lo scapolo d'oro ce l'è lì. Anche tu te la spassi mi pare, no? Bisogna lasciarmi andare. Credimi. E dov'è il principe? Mi sta venendo a prendere con la carrozza. Nella commedia più romantica dell'anno. Anche per te ci sarà un bel principe che ti verrà a prendere con la carrozza. Principessa. L'8 maggio. Al cinema. L'8 maggio. L'8 maggio. L'8 maggio.